Sì, hai ragione. Sì, hai ragione. Sì, hai ragione. Vi invito a Trento a partecipare a questa manifestazione, una delle tante manifestazioni della Smart Week. Siamo a Trento, luogo che conosce molto bene il Presidente Giulietti perché proprio qui fu eletto segretario dell'USIGRAI qualche anno fa e dove domani parteciperà a una manifestazione per ricordare Giulio Reggeni al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento. Il tema che è stato scelto è quello delle fake news, diciamo, tra globale e locale. Il tema delle fake news dal quale non si può prescindere però dalle ultimissime notizie. Perché? Perché, ad esempio, gli autori di scoop e di servizi importanti sono colleghi che sono stati assassinati in Italia e all'estero o che sono costretti a viaggiare sotto scorta o per i quali è stato trovato un piano per ucciderli, per farli fuori. Io credo che bisogna partire da qui per parlare delle fake news. Allora, facciamo così. Intanto grazie. A parte gli scherzi e le battute, grazie. Io poi magari preferirei rispondere alle tue domande e alle diverse... Io sono il rituale per definizione come sanno e come temono i miei amici perché sanno che posso dire qualsiasi cosa, soprattutto quando sono molto stanco e oggi lo sono e spiego anche perché così ti rispondo. Perché sono stati due o tre giorni trascorsi esattamente nei luoghi del dolore e della sofferenza. Sono stati giorni, come sapete, del... ringrazio Nicole Corritore che vedo qua. Prima c'era stato un fotoreporter italiano sequestrato in Serbia ed è tornato solo a termine di una difficile battaglia. Peraltro una vicenda, ma dice che c'entra questo? Ci arrivo subito. Che ti fa capire l'incanaglimento che sta attraversando l'Europa, compreso questo paese, nei confronti del tema della libertà di informazione. Io poi aggiungerei anche nei confronti della democrazia, ma è un discorso più complesso. Perché viene fermato in Serbia? Viene fermato con la seguente accusa. Lui, fotografo degli ultimi, va a fotografare la rotta dei migranti. E viene accusato di avere chiesto i soldi a tre esuli afghani e con la violenza di aver ottenuto qualche euro da loro. I tre esuli afghani dicono, ma io non ho mai visto questo. Ma cosa stiamo parlando? Non so chi sia. E lui resta comunque e decide di... 20 giorni in galera, giusto Nicole? Non me lo ricordo. Con lui c'era Andrea Vignali, un altro straordinario ragazzo, un precario che fa il fotoreporter. E la fatica, in una situazione normale non dovrei neanche parlarne, la fatica di riportare questo signore che aveva commesso quale reato? La documentazione della rotta dei migranti, voglio che sia chiaro. Cioè non era altro. E siccome non si deve mettere il naso e accendere la luce nei luoghi della reclusione, diventa un avversario. Primo. E questo non è italiano. Ma nei giorni scorsi siamo andati ad affrontare un caso con una famiglia che ha vissuto quasi con dolore la tragedia. Ed è un altro fotoreporter, si chiama, lo dico perché vorrei che voi lo invitaste a Trento. Io sono fissato con la memoria. Perché penso che senza memoria non c'è futuro. La memoria la puoi utilizzare per inchiodare i ragazzi al passato. Chi fa questo è un delinquente. Ma se invece la memoria è trasmissione di alcuni valori, perché chi è giovane possa costruire il suo percorso, svolge un lavoro positivo. Si chiama la famiglia Rocchelli, abita la Pavia. Andy Rocchelli fu ammazzato in Ucraina quattro anni fa, insieme con Andrei Mironov, un operatore di Amnesty. Perché furono ammazzati? Ma guarda un po'. Perché stava portando la luce nella sporca guerra che si svolge nel Donbass. Era un ragazzo di 30 anni, stava documentando quella guerra. Muore. E addirittura la famiglia, le persone spesso, addirittura chi subisce il lutto, dice forse avrò torto io, perché è talmente oramai modificata la percezione della realtà, che chi viene colpito qualche volta diceva dovrò dirlo? Finalmente hanno, perché assieme abbiamo fatto una denuncia, hanno trovato uno dei possibili assassini e in carcere si aprirà il processo. Ma la cosa, non dico più grave perché è irrispettosa, è quella di queste ore. Perché Paolo Borrometti, che è un ragazzo, invitate lui, non me, ha 35 anni Paolo Borrometti, Paolo Borrometti lavora per un piccolo sito, si chiama La Spia, guarda come le storie tornano, molti di questi ragazzi sono anche precarie e quindi vengono minacciati coloro che sono anche più esposti perché non hanno neanche delle garanzie. Lui ha scritto sulla mafia di Vittoria, Vittoria è un centro ortofrutticolo che sta vicino a Ragusa, ha denunciato con nomi e cognomi quello che accade tra Vittoria e Ragusa. Qualche collega, disgraziatamente a queste orecchie, cioè le mie, ha detto stiamo attenti a questi mitomani, ma chi sono questi colleghi sotto scorta? Lo dico perché lo senti dire la prima volta per Pippo Fava, poi per Impastato, poi per Giancarlo Siani e poi per Giulio Reggedi. Persone forse... Anche Falcone era stato accusato di essere mitomani. Guardate, quasi tutti quelli che indagano su mafia e corruzione vengono ritenuti gente strana. Fino a che questo accadrà vuol dire che c'è qualcosa di malato profondamente dentro di noi perché chi va a caccia di legalità è strano, chi collude è normale, il giornalista che fa le inchieste è strano, il giornalista che non fa le domande corrisponde invece allo spirito dei tempi. Critico me stesso, se non fai l'inversione non ne esci. Allora, consegno questo appello che è nato qualche ora fa, mi piacerebbe che uscisse anche sui siti di Trento, che venisse preso dall'associazione stampa di Trento, vedo Nicola Chiarini che invece è dell'associazione della mia terra, è del Veneto. C'è già sul nostro sito. Bravissimo, mi hai preceduto, non potevo saperlo, evidentemente mi hai sentito e l'hai fatto in treno e quindi hai fatto benissimo. C'è un appello che ha lanciato Don Luigi Ciotti qualche ora fa e Don Luigi Ciotti l'ha lanciato con i colleghi sotto scorta, sono 19 in Italia, il numero più alto in Europa. Uno si chiama Michele Albanese, opera contro l'Andrangheta, l'altro si chiama Lirio Abate, ha indagato su mafia capitale. Un'altra si chiama Federica Angeli, è una straordinaria donna che va a testimoniare il giorno 19, andrà in aula a testimoniare guardando in faccia il clan Spada, che è uno dei clan più feroci che domina nella realtà della periferia e del litorale di Ostia. Queste persone hanno fatto un appello, guardate, molto banale, che io vorrei diventasse condiviso da tutti, così ti rispondo. Questo per me, il modo per contrastare le fake news è quello di sostenere chi tenta di fare l'informazione con spirito critico e in modo serio. Poi ti risponderò nel merito perché le fake news... Famela dopo la domanda, perché ti voglio parlare dell'industria delle fake news, perché molti credono che le fake news siano le bufale, il ragazzino che... No, le fake news sono grandi agenzie internazionali che hanno il compito di stabilizzare la democrazia. È una cosa un po' più complessa di come viene descritta in questo paese, molto più seria, che andrebbe forse studiata seriamente. Ma l'appello che ci consegna Don Ciotti e i cronisti sotto scorta dice questo. Non fate carosello con i nostri nomi. Non portateci in televisione per le esibizioni. Ma magari dal 25 aprile al primo maggio, due date significative rivolte a tutti i direttori, fate una cosa, riportate le telecamere nelle periferie oscurate, riportate le telecamere nei luoghi dove noi abbiamo fatto le inchieste e per questo ci hanno condannato a morte. Non so se l'ho detto bene, Paolo Borrometti non è minacciato. la magistratura ha svelato il piano per il suo assassinio. È una cosa un po' più grave. Lui è salvo per miracolo, è salvo perché alcuni magistrati hanno usato le intercettazioni in modo serio, hanno svelato quello che stava per accadendo, poliziotti coraggiosi sono intervenuti a piedi uniti e li hanno arrestati. Ma il piano era dell'assassinio. Anche Paolo dice l'unico modo, Borrometti, l'unico modo per aiutarci è questo. Fate così, andateci voi al posto mio a Ragusa, voi giornalisti, andateci voi al posto mio ad Ostia, prendete le inchieste per le quali mi hanno minacciato e andate oltre. Non so se l'ho spiegato bene. Allora ti dico che ci sono donne e uomini coraggiosi, non sono solo giornalisti, sono magistrati, sono poliziotti, sono militanti di libera, sono amministratori, sono sindaci, diffidati di chiunque descrive tutto uguale a tutto e tutto è corruzione. In genere, chi sostiene questa tesi è funzionale alla salvaguardia dell'organizzazione del potere. Devi sempre distinguere. Devi sempre distinguere chi hai davanti, perché ognuno ha una biografia diversa, non puoi mai omologare le biografie. Loro ci chiedono di illuminare quei territori, mi permetto di consegnarlo anche qua, io conosco vagamente Trento, ricordo che c'era anche una certa ricchezza associativa, a una certa ricchezza di movimenti, della solidarietà e della legalità, ti faccio io la proposta. Questo sindacato, immagino insieme a molte associazioni, forse potrebbe invitare qui a parlare dell'articolo 21 Paolo Borrometti, perché credo che potrebbe essere utile per centinaia di giovani sentire un giovane come loro che racconta perché lo fa, perché non si ritiene un eroe e perché chiede come aiuto semplicemente aiutarlo nell'amplificazione del suo racconto. Ti rivolgo alla proposta, rispondimi in diretta, dimmi di sì grazie. Io credo, se mi danno la linea al microfono, che l'appello lo raccolgo immediatamente a nome del sindacato giornalisti, credo che nei prossimi mesi affronteremo il tema, inviteremo Paolo Borrometti e credo che lo inviteremo nell'aula magna di giurisprudenza, che è il luogo di studio del diritto e dell'articolo 21 e ci prendiamo questo impegno in autunno sicuramente lo inviteremo. Però volevo farti un'altra sollecitazione. Io noto da circa 20 anni mi occupo di sindacato che per la prima volta la federazione della stampa è vicino ai colleghi minacciati soprattutto con essendo proprio effettivamente in aiuto a questi colleghi parliamo del collega di Nemo che è stato preso attestate a Ostia, Paolo Borrometti ed altri colleghi minacciati a Napoli e questa vicinanza della federazione della stampa secondo me è molto importante soprattutto come parte civile in tribunale. Allora io sono proprio convinto di questo guardate allora io non lo so quali e quanti contratti si faranno conosco tutta la difficoltà della situazione penso che una cosa non posso fare non dovrebbe fare né un partito né un sindacato ma ognuno risponde per sé e che quando avverti che c'è qualcuno in difficoltà che sta in fondo e che quello viene minacciato non rispondergli proprio questo è accaduto in questo paese è accaduta la distrazione di fronte al malessere parlo del giornalismo adesso ma credo che non riguardi solo la mia professione e non ascoltare chi non riesce a comunicare vediamo se lo dico meglio io ho un'età nella quale ricordo l'isolamento prima dell'assassinio di Giancarlo Siani di Pippo Fava di Impastato nomi che alcuni di voi conoscono oggi sono delle icone ma non fu così in quella situazione perché di Giancarlo Siani si scriveva quella frase che era un precario tra l'altro no no è la frase più orrenda che si usa spesso in questo paese lo so che la si usa anche per indicarla come un valore a molti ragazzi ancora tuttora ma tu perché ci hai messo il naso ma a te chi ti ha obbligato a metterci il naso ma quello perché è andato in una zona di pericolo io queste parole le ho sentite dire su Baldoni ammazzato e perché uno che ha un'altra professione vuole andare a documentare la guerra magari perché ha delle passioni civili non è ancora un reato perché Siani invece di occuparsi della fiera del fragolone aveva anche la passione per occuparsi della camorra attorno a casa sua magari perché voleva fare giornalista da cui funzione principale dovrebbe essere una funzione critica e perché pippofava continuava a mettere il naso negli affari dei cavalieri del lavoro di Catania le stesse frasi pari pari le ho sentite per questi ragazzi allora io mi pare un dovere civico peraltro non è una mia scelta diffidate di quelli che fanno tutti da solo so che la stagione va in un'altra direzione che bisogna dire ho detto ho fatto io io vengo da un altro secolo io credo alle squadre credo alle organizzazioni collettive credo ai corpi intermedi credo alle riunioni faticose credo alla mediazione tra i diversi pensate che schifezza diciamo ecco credo che bisogna mettere assieme le diversità e non semplificarle con un colpo di tweet non ci credo a un mondo organizzato così allora quelle ragazze e quei ragazzi quello che ti chiedono sai qual è? loro ti chiedono una cosa molto semplice di esserci di accompagnarli in tribunale di costituirti parte civile quando vengono denunciati si chiamano querelle bavaglio oggi si usano delle querelle di 30, 40, 50 milioni di euro che vengono sparate sul cronista per dirgli intanto io ti avverto poi in genere sono archiviate le querelle bavaglio l'altro giorno Nello Trocchia per un'inchiesta dell'Espresso sull'università privata Pegaso gli hanno chiesto 39 milioni di euro sarà archiviata ma se io sono un ragazzo precario che non ha certezze io per due anni vivo nel terrore che mi possano spezzare le gambe con una querela non so se l'ho detto in modo chiaro devo trovare un avvocato devo andare in tribunale e devo sottopormi a un'altra fila io penso che la funzione della federazione della stampa ma anche dell'ordine debba essere questa andare in tribunale con loro trovargli gli avvocati fare la costituzione parte civile ma non basta essere fisicamente vediamo se lo dico meglio Federica Angeli andrà a testimoniare contro il clan Spada il sindacato nel quale credo io si siede in aula e fisicamente sta accanto a Federica Angeli Paolo Borrometti viene minacciato a Ragusa il giorno dopo tu vai a Ragusa e organizzi insieme a Libere a chi ci sta la manifestazione davanti alla villa confiscata ai mafiosi due ragazzi sono stati picchiati dalla camorra due ragazzi di vent'anni che stanno a Cassavatore un paesetto che è nella terra dei fuochi non basta il comunicato tu devi andare lì e insieme a loro andare a presentare la denuncia non so se riesco a dirlo in modo comprensibile i colleghi turchi che sono in galera sono 157 da questo pomeriggio erano 153 e ne hanno arrestati altri 4 una parte di loro rischia l'ergastolo perché gli si applica la norma per la quale non sei giornalista non ti processo perché giornalista ma in quanto terrorista e perché sei terrorista perché hai scritto dei kurdi per esempio e siccome i kurdi attentano non so se è chiaro all'unità territoriale questo è lo schema per cui trovate tutti quegli ergastoli io ti accuso non in quanto giornalista ma in quanto terrorista che vuole spaccare l'unità territoriale questo è il marchigegno che Turchia e Egitto giusto Nicole utilizzano per passare dall'accusa di reato di opinione all'accusa di terrorismo e questo è il marchigegno attraverso il quale operi i colleghi turchi che inviteremo il 2 maggio in Italia faremo una grande manifestazione a Roma con tutte le scuole romane e anche questa è un'innovazione assoluta ma la potreste fare anche a Trento il 3 maggio di ogni anno è la giornata per la libertà di informazione ci sono comuni che la ricordano e comuni che non la ricordano e il giorno in cui si ricorda è il tema della libertà in pericolo noi quest'anno abbiamo deciso di farla con tutte le scuole a Roma cioè con le scuole che ci staranno diciamo se no non ci basta manco lo stadio olimpico e questa volta chi saranno gli invitati i colleghi slovacchi perché è stato ucciso Kuziak e probabilmente Kuziak viene ucciso per una pista che porta a Vadala e alla Calabria è stata uccisa Daphne Caruana Galizia ma la pista porta probabilmente anche a una pista italiana attraverso i traffici e le modalità dell'esecuzione ma li metteremo assieme con i colleghi minacciati italiani perché altrimenti è un rito è il tentativo di mettere assieme le diverse situazioni e assieme fare una manifestazione la frase che loro ti dicono gli slovacchi come i turchi e questo mi colpisce e ve la consegno perché so che soprattutto i ragazzi spesso dicono sapete che tutte le iniziative che fate il braccialetto per Giulio Reggeni i flash mob sono tutte cose inutili lo dicevano anche a me vorrei rassicurarvi non ascoltate mai gli inviti a stare a casa è incredibile che debba essere il Papa e viva Dio che c'è a dire alzate la voce se non siete d'accordo viva Dio che c'è qualcuno che dice la voce alzatela ma non alzatela per aggredire la diversità alzatela quando avvertite un'ingiustizia che è cosa molto diversa a che vedere con la politica non con diciamo la eliminazione della diversità loro ti dicono una cosa non lasciateci soli c'è la cosa che mi viene ripetuta da tutti dal ragazzo che sta in campagna dal Borrometti che viene minacciato dal ragazzo che sta in Turchia dalla famiglia di Giulio Reggeni dalla famiglia di Rocchelli è impressionante non ti chiedono risolvimi il problema ti dicono puoi amplificare la mia voce puoi dare un segnale che sei solidale puoi prendere il testimone e far sì che anche il giorno in cui io non ci sarò quei nomi non saranno dimenticati e dicono a noi giornalisti fateci una cortesia fate la scorta mediatica quando uno di noi non ce la fa voi riprendete le voci e amplificate martedì purtroppo accompagneremo in tribunale vedi quante cose mi dimentico un nome che molti di voi conoscono furono ammazzati 24 anni fa Ilaria Alpi e Miran Rovatin erano in Somalia stavano conducendo le loro indagini ci sono stati depistaggi accertati acclarati lo dice la corte d'appello di Perugia che parla dei depistaggi condotti anche da apparati e servizi di questo paese è molto probabile che dopo domani cioè anche dopo domani che martedì 17 un tribunale possa mettere un bollo e dire archiviato non è più possibile proseguire le indagini non so come finirà so che per fortuna questo a me piace chiunque lo faccia c'è una reazione civile che martedì davanti al tribunale alle 10 per esempio tutti i comitati di redazione della RAI e non solo vanno con la mamma la attendono quando andrà in tribunale e entreranno in tribunale e se sarà archiviato lanceremo un'asta come dicono le persone moderne io lo dico una parola d'ordine che dirà noi non archiviamo e noi non archiviamo sapete che vuol dire che si arriva in Parlamento si richiede la commissione di indagine e poi si dice una cosa voi potete archiviare in tribunale ma voi non potete a noi non potete costringerci archiviare nel cuore e nella mente delle persone non so come dirle ci hanno chiamato da Latina tu dirai Beppe si entusiasma con poco si invecchiando mi entusiasma con poco oggi mi chiama il sindaco di Latina e dice scusi io non so chi sia vorrei fare una cosa dico prego dice siccome stanno per archiviare noi abbiamo la grande piazza a Latina noi quella piazza la vogliamo dedicare ai lari alpi a Mirandrovatin dice ha risolto il problema della mamma no ma che un comune con i ragazzi del comune dica quella signora che non so non so chi sia che non ho mai conosciuto e quella famiglia che non so chi sia non l'ho mai conosciuta noi la vogliamo ricordare posso dirti ecco io penso che queste iniziative noi dovremmo sostenerle incentivarle e chi le fa deve essere considerato diciamo un cittadino che onora la Repubblica come si capisce diciamo appartengo a un altro secolo diciamo mi modello sulla Costituzione italiana che vorrei conservare ancora a lungo dal globale al locale nuovamente al globale voglio cogliere l'occasione qui pubblicamente della presenza della Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana per esprimere pubblicamente la solidarietà a una voce che verrà spenta qui a giugno la voce della radio in blu la radio della diocesi con l'annuncio di due licenziamenti l'avrei fatto e lo farò domani mattina quando avremo la riunione con i colleghi ma visto che sono presenti qui anche i colleghi di Radio in Blu Vita Trentina volevo appunto rassicurare i colleghi che anche in questo caso c'è Augusto Goio ci sono tutti i colleghi me la raccontate bene la storia per capire come non essere disutile però mi associo a quello che lui ha detto con particolare passione per una ragione questa totalmente biografica perché era un'altra stagione di Vita Trentina ma siccome io devo particolarmente a questo giornale perché quando ero ragazzino fu invitato in una conferenza stampa a Venezia in questa conferenza stampa a Venezia vedi comparire una serie di sacerdoti uno era Zanotelli uno era il Vescovo Blondi un altro era un giovane direttore si chiamava si chiama se non ricordo male era Cristelli giusto non ricordo bene perfetto e un altro era Battisti il Vescovo di Udine le citazioni sono corrette fatemi sì fatemi no perfetto ok me la ricordo ancora perché fui mandato dal mio caporedattore che disse tanto lì non puoi fare danni perché è una cosa di preti non farai danni riportaci un bel testo devozionale bene solo che io conobbi questi signori che facevano l'appello di beati costruttori di pace e che per primi ponevano una questione che forse si dovrebbe riportare al centro della vita di questo paese ponevano il tema del commercio delle armi delle lecite transazioni sul commercio delle armi oggi Trump alza la voce ma Trump è uno di quelli che ha venduto le armi per massacrarsi in Siria e bisogna tornare a dare i nomi e cognomi perché se no non si capisce più niente in questo mondo l'assenza di nomi e cognomi fa sì che non capisci niente e chi ha venduto le armi si alza e dice è ora di finirla e chi ha massacrato i siriani si alza e dice è ora di finirla loro un movimento molto coerente fecero una grande campagna che fu sviluppata da un'altra grande rivista Nigrizia dove allora era direttore padre Zanotelli e furono tra i primi sul commercio delle armi sulle transazioni mafiose sulle parole di Don Ciotti giusto ricordo bene sull'educazione alla legalità erano un esempio molte di queste riviste ma la vita trentina più di altre di quello che adesso i dotti chiamano glocal io odio queste parole erano un esempio di come c'è un'informazione locale che ti racconta quello che cade attorno ai tuoi piedi e ogni voce che si chiude mi dispiace che non lo capiscano anche altri amici non mi riferisco a voi ogni voce che si chiude in questa direzione è una ferita che riguarda non è la solidarietà al giornalista è una sottrazione di pensiero di cultura di pluralità che arriva nelle comunità perché questo io parlo di loro con molta passione perché io che non sono di Trento io ho saccheggiato questi giornali ho ricevuto benefici ho ricevuto notizie perché hanno l'abitudine a riflettere con i numeri quindi tutta questa cosa per dire che io per quel poco che conto ora me la raccontate e per quel poco che può fare la federazione ecco vorrei solo dirti che dagli uffici tecnici agli uffici legali alla pressione politica possibile sarà assolutamente schierata al vostro fianco al fianco della redazione diciamo in questo caso con molta passione perché vi ho saccheggiato non possiamo non parlare delle due audizioni che per due giorni hanno visto sotto torchio Mark Zuckerberg l'inventore di Facebook al Senato degli Stati Uniti quello che non sapeva niente la sua insalutazione il dato più clamoroso 87 milioni di dati sono stati trafugati da Cambridge Analytica e ne hanno fatto l'uso che ne hanno voluto la domanda che a un certo punto l'ha fatto sorridere è stata quella di un senatore americano che gli ha detto ma signor Zuckerberg lei avrebbe piacere che venisse diffusa la notizia dove è stato in hotel ieri e a un certo punto è rimasto qualche secondo interditto e poi ha detto no io sto in albergo a Trento va bene ma certo capito ma quello era un'altra di cui si riferiva immagino che la domanda avesse anche un secondo fosse un messaggio diciamo le audizioni americane non sono quelle che vediamo noi di Pluto e Topolino insomma sono piuttosto secche quello che penso io di quella vicenda non faccio finta di sapere tutto magari vi rimando a un approfondimento bibliografico questi temi bisogna evitare di parlarne per battute c'è un punto che mi preoccupa perché è questa idea che si è diffusa vediamo se riesco a dirlo bene senza entrare nelle polemiche politiche italiane perché non me ne frega niente in questo momento rivendico il diritto di riflettere senza dover sempre preoccuparsi di quello che passa e dice ma con chi ce l'aveva francamente mi interessa a zero mi pare che il problema sia un po' più ampio io da quando ho sentito affermare che le ideologie sono morte non ho visto niente di più ideologico dei vent'anni successivi finito lo scontro tra comunismo e anticomunismo mi hanno spiegato guarda le ideologie sono morte posso dare un consiglio ai ragazzi diciamo ecco diffidate di queste sciocchezze perché è dall'inizio della storia che chi vince teorizza che le ideologie sono morte non è così il momento che rimane in campo solo il mercato senza regole e che cosa c'è di ideologia più dominante del mercato senza regole la rete in qualche modo non è l'espressione mediatica perché è vero che la rete è una grande occasione di libertà ma questa menata che hanno teorizzato alcuni che la rete non ha padroni che la rete non ha proprietari che la rete è uno spazio in cui tutti siamo uguali credetemi è un'illusione ma non lo dice il sottoscritto che conta zero il professor Stefano Rodotà una delle persone più serie una forse dei pochi studiosi serie della rete di questo paese ha sempre spiegato che è un grande spazio di libertà ma dentro uno spazio di libertà ci devono essere delle regole e le regole devono essere chiare si deve sapere chi c'è dietro la rete chi è il proprietario della rete quali sono i miei diritti alla primacy se c'è qualcuno che raccoglie senza che noi per esempio lo sappiamo ed è molto diffuso noi siamo collaboratori di grandi agenzie con i nostri click noi determiniamo la ricchezza di grandi motori di ricerca e di grandi agenzie pubblicitaria non so se è chiaro è come quando ero ragazzo mi dicevano c'è la televisione privata ma beh la televisione privata è gratuita non è vero ci sono stati dei bellissimi messaggi che dicevano nel momento stesso in cui stai davanti alla televisione e scegli un canale il tuo tempo dell'ozio è un tempo di profitto parole difficili sono parole molto semplici io determino con la mia presenza e il mio click l'accrescimento dei profitti di gruppi privati dobbiamo dire che non è così diciamo che non è così dobbiamo dire che uno è uguale a uno diciamo che uno è uguale a uno ma nella mia cultura politica devo dirvi che il problema di uno è uguale a uno riguarda la nascita delle persone non riguarda la rete se sono disuguali alla nascita se sono disuguali le condizioni sociali se sono disuguali le condizioni di accesso al sapere non sono uguali nella rete perché non è la rete che determina l'uguaglianza è l'organizzazione di una democrazia e la distribuzione del sapere che determina la tendenza all'uguaglianza spero di essere chiaro non è dopo non è la realtà virtuale che mi rende uguale in modo virtuale non uguale in modo sostanziale non è affatto la stessa cosa allora qual è il punto Rocco il punto è molto difficile uno gli stati hanno rinunciato a darsi delle norme Stefano Rodotà diceva una cosa che ancora oggi io penso sia l'unica possibile lui diceva occorre un coordinamento internazionale che porti a definire lo spazio della rete è un tema molto delicato qualcuno utilizza il tema delle fake news per un'operazione di altra natura che è quella che dice poiché ci sono le fake news io metto i bavagli e attenzione io perché sono contrario perché in genere il bavaglio parti dicendo che lo metti alle fake news e poi lo metti a quello che non ti piace il principio di censura io lo respingo in tutte le sue forme persino nei confronti di quei giornali di quei giornalisti con i quali io non prenderei non un caffè ma non voglio neanche passeggiare farmi fotografare assieme però il principio di censura è pericoloso quando io dico te lo chiudo te lo scuro te lo levo è pericolosissimo perché in genere io oscuro i miei nemici e illumino i miei amici è un principio questo pericolosissimo sempre e però il fatto che non ci sia regola è pericoloso quindi gli stati europei devono arrivare a definire delle regole comuni che sono quelle che ho indicato che cos'è la cosa mancante di questo dibattito ci sono i proprietari ci sono gli stati non ci sono le organizzazioni dei giornalisti non ci sono le organizzazioni degli utenti non c'è il conflitto sociale non esiste strumento che senza conflitto possa essere regolato la rete è un luogo in cui ci sono i proprietari e noi anonimi cittadini non ci sono organizzazioni lo dico in modo comprensibile che confliggano e rivendichino il diritto alla conoscenza questo è il grande assente di questa discussione sarà possibile riempirlo io questo non lo so so che questo deve accadere perché quando non c'è assenza di un conflitto e non si determinano le regole questo è pericoloso con i cittadini dopodiché se io dovessi dare un consiglio tu mi chiedi delle fake news distinguiamo bene però le bufale non sono le fake news non vi fate criminalizzare ci sono ragazzi che possono postare delle cose sbagliate noi sbagliamo cento volte al giorno c'è un errore di un giornalista quello non è una fake news gli errori esistono nella professione gli errori esistono nel lavoro di una ragazza o un ragazzo gli errori in rete sono abitudinari la bufala a talvolta l'aspetto persino dello scherzo atroce ma dello scherzo non è un reato le fake news di cui parliamo sono un'altra cosa è quando Cambridge Analytica che è una grande organizzazione internazionale che fa capo ai circoli Theocon che hanno accompagnato i conservatori americani che hanno accompagnato la vittoria di Trump qui non stiamo parlando del spero di essere chiaro qui non è in discussione la fake il ragazzo che twitta vorrei essere chiaro non è in discussione il tuo social non è in discussione il tuo profilo Facebook se no cadiamo in una trappola sembra che la discussione sia sul ragazzo di Trento che fa il lancio o su Nicola Chiarini che scrive sul social o sull'assesso ci prendono per i fondelli in questo momento tentano con armi di distrazione di massa di spostare l'attenzione sul margine del problema no no il problema è un altro vere e proprie industrie organizzate che ci profilano ci individuano attraverso i nostri lanci e i nostri click organizzano vere e proprie liste di consumatori elettori e centrali internazionali che lavorano in modo mirato su questi gruppi è una roba molto complessa molto diversa qui parliamo di azioni delinquenziali per sovvertire l'organizzazione democratica su questo io credo che invece il contrasto debba essere forte anche culturale perché troppo spesso abbiamo tenuto i toni bassi fatto finta di niente fatto finta di non sapere e questo non può vorrei ricordare a tutti noi io lo so che ormai tutto è spettacolo nel nostro mondo ma insomma le elezioni americane le ha vinte chi ha preso meno voti le elezioni americane le ha vinte chi ha preso meno voti e le ha vinte attraverso un uso spregiudicato internazionale e nazionale della rete io su questo ho una certa angoscia non lo so voi mi rendo conto che tutti pensano di vivere in un videogame insisto in queste ore si sta discutendo se rifare la guerra e se rifare la guerra dopo aver fatto finta di nulla e se rimettere il mondo in un conflitto di cui nessuno sa l'esito e siccome muoiono i figli degli altri non ce ne può fregare di meno per cui si può consumare un massacro totale senza sapere quello che accadrà e il tutto si può annunciare con un tweet io lo dico a chi pensa che sia un gioco se posso annunciare il conflitto con un tweet voi capite io posso annunciare tutto e il contrario di tutto nella stessa maniera se tu mi domandi come difendersi io non ho spiegato uno sono le scelte di politica internazionale l'altro perché se no diceva ma chi se ne frega ma noi che centriamo io lo so giustamente anche mio figlio dice papà ma io posso fare qualcosa sull'ONU papà ma io posso fare qualcosa sul conflitto e capisco e bisogna stare molto attenti a non indurre le persone alla disperazione che non c'è niente da fare non è vero perché anche molti giornalisti tentano di dire io che centro non è vero perché c'è un elemento che si chiama per chi crede libero albitrio per altri si chiama azione civile per altri si chiama responsabilità individuale si chiama spirito critico la sconfitta è stata nell'abbassamento dello spirito critico perché tu hai un dovere tu singolo hai il dovere di verificare hai il dovere di non arrenderti hai il dovere di avere altre fonti hai il dovere di dire ma perché mi dici vediamo se lo dico bene dove io accuso me stesso ma anche in parte la mia professione aver fatto passare che il paese era invaso avere consentito la bufala organizzata questa sì la fake news organizzata che stessero in aumento i delitti poi hanno detto la percezione dei delitti poi si è detto l'immigrazione attraverso cifre false e strumentalizzate questo ha determinato un clima termino con questo ti faccio questo gioco qual è il paese che è il più alto numero di morti sul lavoro in Europa voi lo sapete è l'Italia ma se io dico a un ragazzo tu avverti il terrore dell'emergenza sociale si muore nei cantieri e muoiono donne e uomini di ogni fede e di ogni colore hai visto aprire il tuo giornale tutti i giorni sulle morti sul lavoro o lo hai visto solo sul furto in villa sai tutto sull'ultima rissa a piazza Duomo cosa sai sulle morti dei cantieri italiani e quella è una grande operazione ideologica rimuovo dall'attenzione generale che si muore di lavoro e quella si chiama emergenza sociale l'emergenza sociale fa scattare in me non la voglia di colt ma fa scattare in me la voglia di solidarietà perché l'emergenza sociale ha bisogno di solidarietà devi andare ad acchiappare tuo padre che potrebbe morire in quelle condizioni e scatta un meccanismo di reazione se invece io ti abito il problema vero tuo è l'ultima rissa nel bar cittadino e tu capisci che scatta un'altra volontà io mi alzo e dico intanto mi armo poi gli sparo in bocca e poi gli sparo perché ha un altro colore perché l'emergenza non è l'emergenza sociale non è l'emergenza della mia impossibilità di vivere ma è l'emergenza del diverso che sta vicino a me poi succede che si va in un bar si spacca sangue una coppia di omosessuali esce e trionfando dico la verità io sarò un vetero ma penso che si debba reagire con un po' più di energia ma non solo come giornalisti anche come cittadini però mentre stavamo parlando ci sta commentando questo dibattito con le sue vignette i suoi disegni Sara Serravalli che ringraziamo e che ringrazio pubblicamente per questo lavoro di accompagnamento adesso però non credere a quello che dico se fai una cosa che critica adesso vengo là la cancello scherzo scherzo un'ultima domanda perché adesso le guardo da qua non le vedo un'ultima domanda prima di chiudere perché alle 19.15 comincerà un altro dibattito ma noi siamo rispettosissimi non dell'ordine costituito perché non mi piace volevo sottolineare qui che evidentemente Trento è stato sempre un laboratorio da tanti punti di vista religioso politico culturale in questo laboratorio Trento e anche questa settimana frequentavo anche la rosa diciamola tutta così loro la rosa bianca brentonico in questo in questo laboratorio di cui fa parte anche questa settimana sulla smart week che ci ospita che ruolo diciamo ha svolto e continuerà a svolgere un ruolo l'informazione di prossimità l'informazione locale tenendo conto che proprio a Trento in Trattino Alto Adige c'è un alto tasso di presenza editoriale sia dal punto di vista dei quotidiani sia dal punto di vista dell'editoria radiofonica e televisiva sono tre le realtà che hanno questa la diffusione che ha questa regione che ha questa provincia e quasi nessuno lo sa questo le regioni dove ancora si legge molto e dove storicamente si è letto di più sono la Liguria la Sardegna che è un indice di diffusione di lettura di alfabetizzazione altissima Liguria e Sardegna e il Trentino adesso non ho visto gli ultimi dati ma insomma storicamente avevano questa tradizione che è una tradizione che io ritengo molto civile ma poi ognuno legge quello che gli pare io ho delle idee abbastanza che difendo con le unghie e con i denti io non rinuncio all'identità non credo a queste sciocchezze di che sento dire in questo periodo non ci sono schieramenti tutte cose che non esistono da quando è sorto il mondo gli schieramenti sono due li chiamavano i bianchi i blu la destra e la sinistra ma non facciamo trasformismo ci sono sempre posizioni diverse nella società chi include e chi esclude chi è per le diversità e chi ammazza le diversità chi vuole ridistribuire chi non vuole ridistribuire la puoi girare come vuoi ma sempre lì tornerai è solo questione di tempo è solo questione di tempo perché poi prima o poi le condizioni materiali ti costringono al fatto che le posizioni sempre due sono e poi possono avere diverse colorazioni ma questo è allora è fondamentale che le persone ci arrivino con consapevolezza questo è il punto questa ricchezza che si è creata anche a Trento nel tempo ma comunque le persone si esprimano vediamo se lo dico bene a me non interessa che una persona la pensi come me mi interessa che si esprima consapevolmente dopo essersi documentata allora io credo che dovunque ci siano comuni quindi ti rispondo dovunque siano comuni iniziative dovunque si tenti di stimolare la lettura la discussione il dibattito questo è fondamentale dovunque ci siano giornalisti e io qui ne ho conosciuti tanti potrei persino citarli questa è una realtà Trento ma anche Bolzano che ha dato alcuni anche dei dirigenti della federazione della stampa più colti e più capaci alcuni voi non ve li ricordate sono troppo giovani ma uomini come Piero e Ostini sono stati proprio protagonisti della battaglia per la libertà di informazione potrei ricordare tanti altri Luciano Ceschia che poi andò a Bolzano c'è una tradizione di donne e uomini che lavorano in mondi diversi nel mondo laico nel mondo religioso allora io penso che questa siano tutte le fonti di comunicazione siano le radio siano le televisioni siano i giornali locali ma aggiungo guarda Rocco siano anche i blog e i siti di tante ragazze e ragazzi che non vogliono fare i giornalisti per meno la mia idea di informazione non c'è solo chi ha scelto di fare l'informazione professionale ma ragazze e ragazzi che non faranno i giornalisti ma che hanno ansia di conoscenza vediamo se lo dico bene Giulio Reggeni non voleva essere un giornalista però Giulio Reggeni aveva un'idea nella testa oltre il muro perché se vuoi conoscere non puoi accettare il muro se hai ansia di conoscenza e di curiosità i muri sono il tuo nemico i muri mentali e i muri fisici chi ha curiosità di conoscere altri mondi non può avere né confini né dazzi perché ha bisogno di scavalcare e se hai voglia di scavalcare di conoscere vuol dire che vuoi informare vuoi informarti è l'unica condizione che io conosco e questo credo che sia il valore che debba essere difeso ora io non so come andrà che sono a casa vostra quindi è chiaro che rischio di percepire io preferisco più blandire amo più il dissenso del consenso perché in un momento di omologazione devi tentare di illuminare punti di vista diversi e non semplicemente l'omologazione se posso consegnare una riflessione voi non ne avete bisogno ma chi organizza questa iniziativa e tante altre a Trento vediamo se la mettiamo così diffidatevi tutti di quelli che vi dicono che la democrazia e la discussione si può fare solo in rete e si può fare anche comunicando da casa che non occorra il contatto dei corpi che non occorra l'odore che non occorra vedere il genere umano e che i luoghi di discussione come questi dove come nella vecchia agora sei costretto a confrontarti anche talvolta in modo fastidioso siano cose del passato io mi permetto di dirvi questo il giorno in cui tutti questi luoghi e tutte queste piazze non saranno luoghi di discussione non è vero che vivremo meglio attraverso la rete ma scopriremo che dentro la rete si può sparire e non riconoscere più i corpi umani grazie grazie al presidente Giuseppe Giudetti io credo che anche se siamo arrivati in ritardo il messaggio sia stato molto chiaro grazie 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 grazie